L'annuncio dell'assessore regionale alla salute Nicoletta Veri dopo il vertice con il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli. Si tratta di un nuovo e importante servizio nella sanità abruzzese che sarà attivato nel mese di luglio all'ospedale di Pescara. Quattro posti letto di terapia intensiva pediatrica, i lavori sono terminati e ora è in corso la formazione di medici e infermieri. Un nuovo servizio a sostegno non solo della fascia 0-14 anni ma anche della famiglia dei piccoli dagenti. Saranno attivati dal prossimo mese di luglio i quattro posti letto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale di Pescara che operano in rete con tutti gli altri ospedali della regione. Questo è stato un percorso tecnico e amministrativo perché l'abbiamo messo in atto già da marzo 2020 quando abbiamo messo in atto la rete Covid. I lavori strutturali si sono conclusi a marzo ed è in corso l'allestimento del reparto. Grazie alle opere donate dall'associazione Progetto Noemi con il presidente Andrea Sciarretta e la famiglia della piccola fetta da SMA 1, diventata un simbolo per tutti i bambini con patologie serie. Il percorso anche di formazione da parte del personale medico infermieristico che è stato portato avanti dall'ospedale Bambin Gesù si concluderà definitivamente a maggio. Ad oggi abbiamo dato la possibilità di formarsi all'83% del personale. In questo modo non ci sarebbe più bisogno di spostarsi in altri ospedali fuori regione una grande opportunità sia per i piccoli che per le famiglie. Vorrei sottolineare che ad oggi la nostra regione ha purtroppo un costo complessivo per quando riguarda la mobilità passiva riguardo a questa patologia di 10 milioni. Quindi con l'istituzione di questi posti letto diventeremo non solo punto di riferimento per tutta la regione e ripeto collegati con i nostri altri centri dell'Abruzzo ma soprattutto riferimento del centro meridione. E sulla tempistica dell'entrata a pieno regime del posti letto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale di Pescara. La direzione strategica dell'Ars ha messo in atto un crono programma partendo da un numero 2, 3, 4 e quindi nel giro di pochi mesi avere la possibilità di essere attivi nei quattro posti letto.